Ok, dovremmo essere live, quindi buonasera alla community, buonasera a tutti. Ciao, ciao a tutti. Abbiamo, come vedete, quest'oggi abbiamo una guest, abbiamo Vincenzo Lomonaco, per il talk di questa sera. Per chi non lo conoscesse, faccio una piccola introduzione, poi lascio a te per un'introduzione poi stesa, perché le cose che hai fatto sono tantissime, ma giusto una breve introduzione. Vincenzo è assistant professor all'Università di Pisa, ora, ed è anche co-founder di Continual AI, che è una delle più grosse community sul continual learning per AI. Diciamo che posso dire che ha anche un punto di riferimento per il tema, perché comunque, se non sbaglio, meetup settimanali, che si parla sul tema e si guardano anche articoli, eccetera. Poi adesso, a breve, abbiamo visto anche l'introduzione di questo nuovo framework, poi lascerò a te continuare la parola. Sì, ne parleremo, ne parleremo senz'altro. Perfetto. Prima di lasciare a te la parola, ricordo solo, eventualmente, alla fine del talk, di lasciare nel form il vostro feedback, che ci può aiutare a tutti, sia per migliorare quello che facciamo, eccetera. Per cui, detto ciò, Vincenzo, lasciate la parola e basta. Grazie, grazie mille, Mattia. Grazie per la presentazione, grazie per avermi invitato, così come tutti i colleghi, insomma, che organizzano questo meetup ML Modena, che è quantomeno in tema rispetto ai trend, direi, ed interesse degli ultimi anni. Insomma, mi fa piacere anche che questo meetup, con questa community, faccia riferimento ad una realtà come YAML, l'Associazione Italiana per il Machine Learning, nella quale sono sempre più coinvolto e mi piacerebbe, insomma, nei prossimi anni spingere come punto di riferimento per una comunità che non è solo di accademici, ma è anche di practitioners, gente che è interessata a lavorare al confine tra la ricerca e il business, ma anche persone interessate al tema, dagli studenti alle persone qualunque, quindi cercare di fare un po' più dissemination su questi temi, alle persone che incontriamo per strada, non solo, diciamo, personale e tecnico. Infatti su quest'onda, già che ci sono, volevo suggerirvi il podcast che sto portando avanti con Simone Scardapane ed altri, peraltro sempre tramite l'ausilio di YAML, per, insomma, incontrare quelli che sono gli attori principali di questo mondo, mondo Machine Learning e Intelligenza Artificiale, quindi il podcast si chiama Smarter Podcast e magari avremo modo di discuterne poi nel backstage, insomma, per un po' di networking che potremmo fare alla fine di questo talk. Poi un'altra precisazione, mi fa piacere poi parlare finalmente di nuovo in italiano, visto che spesso mi trovo a fare dei talk in inglese, ma, insomma, scusate se utilizzerò magari dei termini tecnici inglesi, ma ormai viene abbastanza spontaneo e anzi mi piace partecipare a questi eventi solo in italiano, anche perché riprendo un po' di proprietà di linguaggio della lingua italiana, quindi scusatemi se utilizzerò, diciamo, dei termini inglesi o troppo tecnici, non traducendoli in italiano. Allora, adesso proverò a condividere il mio schermo, ma spero che questa, diciamo, questo talk, questo piccolo seminario possa essere un motivo di interazione con voi abbastanza dinamica, nel senso, ho preparato delle slide, riciclando ovviamente delle vecchie, quindi mi scuserete anche per alcune slide che sono recuperate da altri eventi, per cui se avete già seguito alcune delle mie presentazioni, trovate alcune ripetizioni, ma l'obiettivo vorrebbe essere adesso quello di discutere con voi di un tema che a me è molto caro, anzi due temi fondamentali, l'apprendimento automatico continuo, e uno sviluppo di una tecnologia di intelligenza artificiale che possa essere in un qualche modo sostenibile, quindi non possa solo puntare al superamento di alcuni ostacoli tecnici e la realizzazione di un'intelligenza artificiale forte, con tutto quello che poi ne potrebbe conseguire a livello sociale, ma farlo all'interno di alcuni paletti importanti di sostenibilità. In sostanza, non puntiamo soltanto alle metriche di performance, i sistemi, ma anche fare in modo che questi siano sostenibili, ed è un qualcosa che io ci tengo a precisare, deve essere, a partire, deve essere un interesse dei ricercatori, non può essere qualcosa che viene, diciamo, aggiustato, al quale viene messa una pezza dopo da chi utilizza gli algoritmi e l'innovazione in ambito di intelligenza artificiale per risolvere problemi concreti. Deve essere anche il ricercatore che si deve prendere carico di capire quali possono essere gli impatti delle sue ricerche e provvedere a realizzare questi sviluppi interessanti, scientifici e più o meno tecnici, ma all'interno di un framework di sostenibilità. Quindi ecco, questa è un po' l'introduzione lunga al talk di oggi. Adesso, diciamo, condivido le slide, vediamo se riusciamo anche questo tool è abbastanza nuovo per tutti, a quanto pare, AirMeet. Anzi, prima di cominciare, prendere proprio su più interattiva la questione, perché non mi scrivete magari via chat cosa fate voi nella vita, proprio brevemente, programmatore, studente, eccetera, così ho anche un'idea di insomma, di quello che fate, di quello è il vostro background e posso un po' calibrare il talk sulla base di queste, di queste, di questi input estemporanei. Adesso dovrei avere accesso alla chat, credo che sia questa, sì, la chat, quindi se scrivete dovrei, dovrei riuscire a vedere. Ah, ecco, per esempio, c'è Vipul, che saluto, che è uno studente, Marco, software engineer, perfetto, Tetra Pak, salutiamo anche tutti quelli che ci seguono a Tetra Pak, a tutti gli studenti di Unimore, anche perché, signori, io ci tengo anche a ricordare che sono stato uno studente Unimore anche io, all'altriennale ho potuto studiare dentro il dipartimento di fisica, informatica e matematica eccellenza della regione, devo dire, a parte gli scherzi, un piano di studi eccezionale che devo dire neanche l'Università di Bologna, università alla quale poi ho afferito per lunghi anni, potevo offrire all'epoca, quindi si parla di una decina di anni fa, quindi vedo qui le, perfetto, tutte le vostre professioni che scorrono, machine learning engineering, computer vision engineer, molti ingegneri, devo dire, vedo qui, però che lavorate quasi tutti sul mondo machine learning, vision, quindi ottimo, attenzione, un critico d'arte, Jessica, un saluto a Jessica, critica d'arte, devo dire, molto interessante, cercare di capire anche come utilizzare queste tecniche anche più articolate di interesse artificiale per la creatività, no? Questo è un bellissimo, una bellissima frontiera, diciamo. Ok, allora c'è qualcuno che fa proprio addirittura deep learning, Simone, Luetto, quindi, ok, ho capito un po' il target, diciamo, siamo molto, molti professionisti e pochi forse ricercatori, un po' di studenti, quindi, perfetto, cerchiamo di calibrare il tutto seguendo anche questa versione, grazie a avere il vostro input, vediamo se riesco a condividere, allora, tutto lo schermo, direi, entire screen, ok, allora, dovreste essere in grado di vedere il mio schermo, vedere le slide full screen, purtroppo non riesco a vedere voi, ma, insomma, se ci sono dei problemi, fatemelo sapere, dovreste riuscire a intervenire anche a voce, se ci sono dei problemi, vabbè, spero di sì, anzi, fammi controllare, perché non vorrei che, che potete interagire con me solo come dire, ok, Mattia mi dice che si vede, quindi, perfetto, bene avere un feedback, allora, mettiamo subito la nostra presentazione, eccoci qua, siamo con la presentazione, pronti per partire, allora, sì, il talk è intitolato Sustainable AI True Continual Learning, scusatemi anche per le slide in inglese, ma saranno slide minimali che andrò a discutere nel dettaglio, in italiano, quindi spero non, non crea disagi a nessuno, eh, ovviamente per qualsiasi dubbio, interesse, eh, relativamente a questa presentazione, vi prego di, di, di contattarmi direttamente, perché no, all'indirizzo vincenzo.lomonaco at unip.it. Eh, diciamo, giusto per spendere qualche parola in più su di me, eh, ma giusto, giusto un attimo, eh, come diceva Mattia, eh, sono un, un, un assistant professor, sostanzialmente un ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Pisa, dove lavoro, eh, dentro il, Pai Lab, pervasive AI Lab, diretto da, eh, Davide Bacciu, eh, e, eh, anche all'interno del Machine Learning and Competition Intelligence Group di Pisa, con altre eccellenze che da, da molti anni ormai si dedicano al mondo Machine Learning, all'Università di Pisa, un altro centro di eccellenza, devo dire italiano, per quanto riguarda, beh, in generale la scienza, ma soprattutto le scienze naturali, e vi invito ovviamente a, a consultare il sito del Dipartimento dell'Università di Pisa, per verificare con, con, con i vostri occhi, insomma, l'eccellenza di cui parlo, e in un polo, se vogliamo, tecnologico che include il CNR, una delle sedi più ampie del CNR, eh, così come, eh, l'IIT, eh, il Santana, la normale, insomma, veramente una, un importante cross-pollination, direi, eh, di, di risorse, di talenti, ed un ecosistema che sta anche nascendo a livello di startup, quindi, eh, ecco, investiamo tutti quanti in Pisa, che, che secondo me nei prossimi anni potrà dare grandi soddisfazioni al panorama italiano di, di AI e di Data Science, ehm, sono anche, appunto, molto fiero di essere il, il presidente, cofondatore della realtà continua all'AI, che è questa non-profit research organization, che si occupa di continua learning, ed è una delle realtà più grandi nel mondo, anzi, è la realtà sicuramente più grande nel mondo su questi temi, e, ehm, si preoccupa sostanzialmente di sviluppare, ehm, beh, ehm, non solo la ricerca, ma anche la meta ricerca in questo campo, cioè, offrire ai ricercatori una nuova idea di collaborazione, no, di network science, come si comincia a chiamare, eh, perché ormai non siamo più limitati a lavorare sui nostri articoletti, in maniera separata, possiamo lavorare in maniera collaborativa, e, eh, continuo le AI è anche un piede di porco, no, è un qualcosa che ci consente di scardinare un po', i vecchi sistemi di collaborazione, e lavorare con gli strumenti che abbiamo, che abbiamo visto anche durante questa pandemia, per, eh, fare cose eccezionali insieme, eh, quindi, insomma, verificate anche con i vostri occhi tutti i progetti collaborativi che abbiamo, eh, visitando il sito ufficiale continualeai.org. Eh, poi sono anche il cofondatore board member, diciamo, di un'altra associazione a cui tengo molto, come avete visto, insomma, le mie interesse sono, diciamo, si articolano su due fronti, principalmente, uno è quello dell'apprendimento continuo, e l'altro è quello del, del, dell'AI applicato, diciamo, per, per, all'interno di un, framework di sostenibilità, e, eh, per i usi benefici, eh, applicati al mondo reale, insomma, alla società, eh, moderna. E, detto ciò, l'outline di questo talk, che, diciamo, sì, eh, sembra, diciamo, prolungarsi anche più del dovuto, vista questa grande introduzione, eh, partirà con una breve introduzione al, al, al learning, che cos'è, perché è utile, e perché, secondo me, risulta essere, un tassello fondamentale, per, eh, lo sviluppo di un'intelligenza artificiale, strong, poi andremo a andare a guardare quelli che sono, i principi chiave, di sustainable AI, e come, il continual learning, questo è l'elemento che mi piacerebbe discutere con voi, e di, insomma, di originalità di questo talk, come il continual learning, può essere visto come, eh, io lo chiamo qui, un key technological enabler, cioè, un, un sviluppo tecnologico fondamentale, e, per, eh, una concezione di intelligenza artificiale sostenibile. Quindi, partiamo subito, che cos'è il continual learning? Beh, sicuramente, eh, credo che sia ormai noto a tutti, diciamo, il deep learning, in qualche modo, rappresenta lo stato dell'arte, per, eh, la stragrande maggioranza dei task, soprattutto percettivi, quindi di visione, eh, di riconoscimento del parlato, di elaborazione automatica del linguaggio naturale, e così via. Ma, in realtà, questo tipo di vantaggio, diciamo, è dettato, soprattutto, da, la disponibilità di grandi dosi di dati etichettati, quindi, con una grande livello di supervisione, molto costosi e anerosi da produrre, e, eh, diciamo, l'argomento principale che porta avanti, come uno dei problemi rilevanti, che ci lascia scoprire il continual learning, è l'impossibilità, se vogliamo, di comunque coprire, eh, dei problemi, di complessità, particolarmente elevato, cioè, nel momento in cui noi cerchiamo di risolvere problemi complessi, che non siano, magari, di classificare, appunto, dieci classi, o, diciamo, i digits, di un, tra, tra dieci possibili, numeri, eccetera, e vogliamo approcciarci, a, eh, problemi di complessità maggiore, ebbene, il, insomma, la complessità e la difficoltà nel, in un qualche modo coprire l'intero spazio, no, del problema diventa esponenziale, cioè, è impossibile riuscire a coprire l'intero spazio d'azione, se vogliamo, che vogliamo modellare, con un numero sufficiente di esempi, eh, che possa coprire la sua interezza, quindi senza bias, del fatto, qui faccio un esempio, eh, queste sono quattro immagini generate, in maniera sintetica, che massimizzano l'attivazione per il neuroncino, di una, ovviamente, rete, neurale, addestrata su ImageNet, quindi, è lo stato dell'arte, su più di un milione di immagini, eh, per quanto riguarda la, la classe, eh, barbell, quindi il peso, quello da, da palestra, e vediamo chiaramente che, eh, diciamo, le feature, no, le caratteristiche visive, che massimizzano, eh, la risposta di questa rete, neurale, addestrata, contengono anche delle caratteristiche visive di un, di un braccio, di un uomo, quindi, sostanzialmente, eh, la nostra intelligenza artificiale qui ha una, una visione abbastanza biased, abbastanza, diciamo, non sicuramente opportuna e sbilanciata del, del, della concezione di, di peso, no? E, eh, questo è sicuramente perché non siamo riusciti a collezionare un numero di esempi significativi, in cui, per esempio, le braccia non apparivano banalmente, e questo quindi per, per capire che anche in problemi apparentemente semplici, con solo mille classi, eh, sole, tra virgolette, insomma, questi, questi elementi, diciamo, di BIOS accadono, accadono e come, e sono dei problemi rilevati. Lo stesso, per esempio, qui accade con un tasco complesso di descrizione, di un'immagine automatica, dove un gruppo di persone qui, ecco, è definito come, eh, diciamo, passeggiare su una spiaggia, quando chiaramente questa è un'immagine di un alluvione, e non abbiamo fornito, semplicemente al sistema, un numero di immagini, di caption, eh, coppie, diciamo, sufficienti a coprire anche lo piccolo, diciamo, sottospazio dell'intero problema che vogliamo affrontare, che è relativo alla descrizione di immagini, di, di allagamenti. Quindi, eh, questo accade sempre, accadrà sempre, infatti, un detto, in, in machine learning, ci insegna che tutti i modelli sono BIOS, e, insomma, ce ne dobbiamo soltanto fare una relazione, non esiste un modello perfetto, eh, che, che non sia, non siano i dati stessi, diciamo, riassumere i dati in un modello, sono, c'è un'approssimazione, diciamo, eh, automatica, non possiamo, non possiamo non farlo. Quindi, come possiamo migliorare, se vogliamo, questi sistemi di intelligenza artificiale, rendendoli più adattivi, più scalabili, più, diciamo, autonomi, ecco, quindi, e soprattutto rendendoli in grado di affrontare situazioni dove, o non sono stati, diciamo, mai addestrati, oppure, non hanno mai incontrato, e, oppure, diciamo, sulle quali, performiamo, principalmente male, no? Come abbiamo visto, magari siamo soggetti a del bias. E la risposta fondamentale che mi sono dato durante tutto il mio percorso di ricerca, sin dal dottorato, è l'apprendimento continuo. Quindi l'idea è di allontanarsi un po' da questa idea, di questa rigida suddivisione, tra il training offline, diciamo, di un modello, e poi l'uso in deployment di questo modello, con caratteristiche di apprendimento bloccate, no? Non siamo più in grado di migliorare, non siamo più in grado di apprendere, e muoversi verso un'idea che è un po' più naturale, naturale, insomma, di intelligenza e di apprendimento, dove non si smette mai di apprendere, nel tempo, e quindi si esplora questo intero spazio, che vorremmo in qualche modo coprire, no? Nella nostra idea di task, che vogliamo risolvere, quindi spazio di possibilità, lo andiamo a coprire solo localmente, secondo quando ne abbiamo bisogno. Questo è un po' il trucco che facciamo anche come uomini, noi che siamo, abbiamo per scondato che un uomo, no? L'intelligenza umana sia già in grado di risolvere qualsiasi problema, no? Quello che facciamo è dire, ok, quello che vogliamo è un sistema che sia in grado di aggiornarsi rapidamente, in modo robusto, con pochi esempi, questo è più quello che vorremmo da un'intelligenza artificiale forte, non che sappia risolvere un task già, diciamo, solo con la sua, no? con la sua descrizione genetica e quello basta. E quindi, diciamo, in maniera pratica, tutto il problema si riconduce a, sostanzialmente, la modellizzazione, beh, questo è il problema dell'apprendimento, modellizzare, diciamo, una funzione f di teta, che è la nostra rete neurale, che riesce a mappare, per esempio, due distribuzioni, x1 e y1, quindi vogliamo una funzione che è dato un elemento, x, ci dà una predizione, y, e questo è, diciamo, l'apprendimento di base, però nel momento in cui andiamo ad incontrare un'altra coppia di distribuzioni, simili, dissimili, quello che è, quello che vorremmo è aggiornare il modello, fare in modo che gestisca entrambi questi mapping, e li generalizzi, magari, senza però più accedere, questo è fondamentale, i dati relativi a x1 e y1. Quindi vogliamo soltanto aggiornare, sostanzialmente, questo stesso modello, utilizzando i nuovi dati che abbiamo a disposizione. Questa è la schematizzazione, diciamo, formale del Continual Learning, però, diciamo, è semplice, ma ha un impatto fondamentale, inserisciutto sul Machine Learning, che assume in generalmente che i dati siano IAD, quindi in un qualche modo rappresenta una totale della distribuzione che si vuole modellare. E ha degli impatti profondi, anche dal punto di vista delle implicazioni, quindi è l'unico paradigma di apprendimento che ci consente di ragionare su scale temporali diverse, quindi non assumere di avere i dati tutti di un colpo, ma scale temporali molto più a lungo orizzonte, per cui abbiamo nuovi task nel tempo, abbiamo nuovi dati, magari le cose che abbiamo visto in passato non sono neanche più utili e così via. Ecco, un elemento fondamentale dell'apprendimento di un'unico continuo è l'impossibilità di accedere a dei dati precedentemente incontrati, e quindi questo ci dà la possibilità anche di mantenerci costanti in termini di overhead computazionale di memoria. Questo è fondamentale, perché non stiamo assumendo di accumulare i dati e di riaddestrare gli interi sistemi da zero, stiamo dicendo di operare come un filtro rispetto alla realtà. Cioè immaginate questo stream di dati molto rumorosi, che insomma un sistema percettivo ci fornisce, e di utilizzare un filtro che in un qualche modo li lascia passare, li abbandona, non appena questi, diciamo, fluiscono nel sistema stesso, e in un qualche modo mantiene soltanto le informazioni rilevanti, costruendone una rappresentazione malagastratta, generalizzandoli nel tempo. Questo ci consente anche di costruire come una valanga, un sistema di apprendimento incrementale, dove si sviluppano step dopo step delle conoscenze e delle capacità via via più rilevanti. Quindi una sorta di curriculum learning, ecco, ma perché allora è interessante questo aspetto dal punto di vista scientifico, dal punto di vista tecnico? Beh, perché è molto molto difficile da fare oggi con le tecniche di deep learning. Sostanzialmente incappiamo in quello che in letteratura viene definito come lo stability plasticity dilemma, qualcosa che è anche comune rispetto alle reti neurali biologiche. Sostanzialmente la difficoltà di bilanciare quello che c'è da ricordare del passato, quello che c'è, insomma, la plasticità, non si dice in termini tecnologico, che serve per apprendere nuovi concetti e allo stesso tempo generalizzare nel tempo, quindi riuscire a capire quelle cose che sono da dimenticare e quelle che invece sono utili da ricordare. Ecco, questo è, diciamo, il cervello è eccezionale nel risolvere questo problema perché siamo veramente in grado di ricordare quello di cui c'è bisogno, siamo in grado di generalizzare nel tempo e siamo abili nell'adattarci rapidamente a situazioni contingenti diverse. Quello che succede in deep learning è che se facciamo qualcosa del genere, quindi non rieffettuiamo l'addestramento con tutti i dati da zero, incappiamo in quello che viene definito catastrophe forgetting, cioè dimenticanza catastrofica, mi piace come suona in italiano. Sostanzialmente quello che accade è che sovrascriviamo i parametri del nostro modello, della nostra rete neurale, per in un qualche modo modellare soltanto l'ultima distribuzione o sottodistribuzione che abbiamo incontrato nei dati, quindi dimenticando completamente quello che abbiamo imparato nel passato. Quindi un esempio banale, non so, o un sistema che incontra un paio di classi, immaginiamo siamo un sistema che fa non so, classification di oggetti, magari fashion item, quello che volete, quindi lo addestriamo sulle prime due classi, magari uno scarpone, una giacchetta, poi nel momento in cui passiamo ad altri due oggetti di bestiario, quello che succede è che impariamo a distinguere magari gli altri due oggetti, ma ci dimentichiamo completamente dei primi due che abbiamo incontrato. Quindi diciamo nel tempo, direi da più o meno del 2016 in poi, abbiamo visto un numero significativo di strategie che sono proposte nel tempo, adesso non scenderò nei dettagli, ma sostanzialmente potremmo far ricadere tutte le strategie che sono state proposte nell'ultimo 5-10 anni, insomma nell'ambito di plurini principalmente in quattro categorie fondamentali, la categoria di regolarizzazione, di rehash, quindi di replay, di generative replay e architetturali. Quindi trovate ovviamente tutti i dettagli sui paper che è anche linko sotto, quindi in particolare il paper Continued Learning for Robotics che è un po' una review del campo Continued Learning e in più la possibile applicazione del modello robotica. Però insomma, diciamo, fosse interessante soltanto spiegare adesso quelle che possono essere gli approcci, no? In questa fazzi categorizzazione, quindi ogni approccio può essere un mix di tutti questi altri. Quindi per esempio una tecnica banale di regolarizzazione sarebbe quella di preservare se vogliamo i pesi che sono importanti e che modellizzano le distribuzioni incontrati precedenti perché sappiamo che diversi pesi hanno diversa importanza in un modello. Oppure la tecnica di replay o di rehash prevede l'immagazzinimento se vogliamo di esempi rappresentativi del passato magari solo una sottoporzione e la riproposizione di questi esempi mentre impariamo nuove cose per evitare di dimenticare il passato. Oppure l'approccio generative replay diciamo riguarda tutti quei metodi che cercano di generare degli esempi rilevanti per popolare sostanzialmente questa memoria come nell'approccio di replay ma senza immagazzinare esempi reali generandoli on the fly. E poi ci sono gli app ciclo rettoriali che prevedono invece l'aggiunta di nuove porzioni di nuovi elementi alla nostra rete magari bloccandone bloccando l'apprendimento di alcune sinapsi e così via alcuni pesi e tecniche affini. Ecco su questo lavoro abbiamo lavorato su questo diciamo ambito abbiamo lavorato tanto proponendo una strategia che si chiama R1 e che è una strategia che va nella direzione di fare un po' diciamo essere una strategia ibrida quindi che mette insieme diversi approcci e che funzioni soprattutto real time su questo infatti abbiamo diversi paper potete potete guardarli sicuramente uno degli ultimi è questo Latent Replay for real time continue learning dove anche sviluppiamo un'applicazione Android per far vedere il potenziale sostanzialmente di questa di questa algoritmo di continue learning che può girare direttamente su un Android device può fare classification on the fly abbiamo insomma già un'applicazione utente per fare object recognition e in maniera incrementale funziona molto bene in maniera molto efficiente quindi crediamo essere un uno sviluppo rilevante soprattutto per le applicazioni che possono lavorare su uno stream di dati vero veloce e sì lavorare soprattutto quindi con sequenze video qualcosa che in continue learning ancora non viene non viene considerato almeno diciamo nella stragrande continual learning oggi vogliamo andare in una direzione di non curarci della definizione di task ma a lavorare in contesti dove non c'è magari neanche la definizione di task e diciamo non ci sono addizionali segnali di supervisione che possiamo utilizzare e in un contesto dove possiamo apprendere da pochi dati alla volta questa è un po' diciamo la direzione di ricerca che stiamo cercando di sviluppare ma non la pretesa di affrontare in questa mezz'oretta siamo gli aspetti tecnici di questo ovviamente siete liberi di contattarmi nel momento in cui volete entrare nei dettagli tecnici e mi farebbe molto piacere senz'altro quindi detto questo ecco un'altra cosa di cui volevo parlare che mi ha visto coinvolto tipo per più di un anno e quindi sono molto orgoglioso anche di presentare oggi è il progetto che accennava Mattia su una libreria open source basata su PyTorch quindi con licenza MIT per fare continual ecco l'obiettivo insomma di questo progetto che è partito più di un anno fa con più di 15 partner internazionali e il supporto di tutta l'organizzazione continua AI e di fornire diciamo un single entry point una all in one end to end library per fare continual learning in maniera facile in PyTorch quindi questo è uno stato sforzo significativo perché il campo è molto diciamo giovane immaturo e formalizzare via con un API in un qualche modo generare la sofficienza da incapsulare presenti e future definizioni setting algoritmi è qualcosa di molto challenging che abbiamo scoperto oltre che cercare di standardizzare l'infinità di setting e opportunità che sono già presenti oggi in continual learning insomma per chi di voi ha visto come studente o come ricercatore o anche vabbè come professionista qualsiasi cosa che sia diciamo in uno stadio molto abbia prima di tutto un indirizzo internazionale e sia in uno stadio primitivo se vogliamo di sviluppo è davvero molto confusionale lavorarci bisogna sempre stare sul pezzo leggere molto molta letteratura parlare molto insomma non ci sono elementi definiti che ci consentono di andare veloci ecco è tutto un qualcosa di molto collegiale da definire da ristrutturare da rivedere ogni molto frequentemente con cicli iterativi molto frequenti quindi diciamo è stato un task complesso però sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a mettere in piedi e vi invito a consultare il sito ufficiale del progetto avalanche.continuerai.org dove abbiamo fatto tutto il lavoro anche di documentazione notebook tutorial e quant'altro per riuscire a rendere il più semplice possibile l'ingresso nell'utilizzo di questa libreria ovviamente volevo anche fare menzione sul fatto che cerchiamo contributors e maintainers per questo quindi siamo proprio alla ricerca pesante di gente che possa aiutarci sponsorci quindi altre attività tipo supervisione di tesi quindi se volete lavorare su questo collaborare con noi su questo siamo totalmente aperti a considerare qualsiasi tipo di collaborazione sia a livello di Unipi che come continua l'AI e tutti gli altri partner internazionali in America Cina e Europa in generale quindi ecco volevo soltanto fare questa menzione ovviamente se ci volete sopportare anche soltanto metterci una stellina su Github sarebbe un gran supporto perché insomma non tutti conoscono la piattaforma non tutti conoscono il progetto e sarebbe un grande aiuto da parte vostra anche soltanto un feedback spassionato però ecco siamo molto orgogliosi di questo progetto anche perché ha origini principalmente italiane cioè è veramente una delle poche librerie che adesso entrerà subito nell'ecosystem PyTorch perché abbiamo anche una sorta di supporto da PyTorch che nasce e viene sviluppata in Italia principalmente quindi tramite il supporto di Unipi e Unibo quindi Università di Pisa e Università di Bologna sono stati degli attori fondamentali e diciamo praticamente al momento praticamente hanno cinque dei cinque principal mantelli di Niavalanche sono tutti italiani e sono di queste due università quindi ecco credo sia proprio anche un progetto di orgoglio nazionale ecco se lo vogliamo definire così ok quindi brevemente volendo coprire quelli che sono i principi invece di 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 sustainability diciamo di sostenibilità nel mondo di AI beh allora prima di tutto bisogna così fare contestualizzare un attimo questa slide cioè non è chiaro ad oggi quelli che sono vabbè prima di tutto qual è la definizione di sustainable AI e poi quali sono diciamo i principi generali che la caratterizzano quindi insomma è tutto un qualcosa in divenire però diciamo ho voluto riassumere qui alcuni di quelli che spesso vengono riportati come essenziali per la definizione di un'intelligenza artificiale etica sostenibile ecco quindi uno dei punti fondamentali è sicuramente accuratezza e robustezza cioè non vogliamo dei sistemi che siano molto fragili che siano proni diciamo a errori catastrofici appunto come il catastrofico forgetting ed altro abbiano un'accuratezza rilevante che riesca a risolvere problemi concreti ok poi vogliamo sicuramente che questi sistemi siano spiegabili trasparenti e affidabili possono essere resi responsabili delle loro scelte questo è un altro aspetto fondamentale e quindi innanzitutto spiegabili nel senso che deve essere comprensibile a un umano il loro processo decisionale perché hanno portato ad un certo hanno fatto una certa predizione banalmente e il perché quindi sia chiaramente recuperabile con il processo decisionale che le ha portati fino a quella decisione e si possa facilmente identificare le responsabilità del sistema e quelle umane e poi sia trasparente nel senso sia possibile andare in profondità riuscire a capire il sistema e guardare non solo i suoi processi decisionali ma anche il suo puro funzionamento con un livello di trasparenza significativo vogliamo che il sistema sia chiaro sui bias quindi le pregiudizi diciamo che incapsula e evidentemente sia possibile in un qualche modo ridurre questi bias non con tecniche di interesse un elemento per esempio collegato al bias è anche il discorso della fairness cioè essere diciamo giusti equi rispetto a determinate sottocategorie sottopopolazioni dell'intero sistema che stiamo modellando e ovviamente non da meno sono le caratteristiche di privacy sicurezza e di impatto sulla società su sugli uomini e sull'ambiente quindi sul benessere di queste tre componenti chiave ecco quindi perché dopo tutta questa questa introduzione al continual learning e avendo visto quelli che sono i principi generali io dico che il continual learning può essere utilizzato come una tecnologia abilitante per fare sustainable AI è qui che mi piace ragionare con voi è qui che mi piace porre il focus della conversazione di oggi perché secondo me è un qualcosa che spesso non viene linkato questo è un problema generale il fatto che sembra che appunto gli sviluppi tecnici di una disciplina come l'AI debbano agire in maniera separata dalle implicazioni sociali come vi dicevo all'inizio dell'incipit diciamo del talk io credo che debbano tornare insieme a queste due cose e poi c'è il problema sì che nell'ambito dell'AI for social good delle sustainable AI non si è mai parlato di continual learning come qualcosa che potrebbe essere rilevante quando invece io credo che sia assolutamente rilevante almeno per una parte di questi general principles che andiamo a vedere adesso beh innanzitutto come va a impattare il continual learning su accuratezza e robustezza beh robustezza è chiaro è un sistema di apprendimento continuo che sia capace di aggiornarsi rapidamente on the fly su situazioni contingenti che non funzionano è un sistema robusto per definizione come quello umano insomma non esiste un umano perfetto eppure ci affidiamo a un umano per viaggiare su un aereo o su una macchina sembra folle ragionandoci come informatici sembra folle affidarsi ad un umano per un task così complesso e soggetto a così tante variabili come la guida eppure funziona ci affidiamo entrato nella cultura dominante il fatto di fidarsi però se ci pensate appunto un problema che accade su un aereo cioè nel senso noi ci affidiamo che un pilota sia in grado di risolverlo nell'arco di qualche minuto prima di schiantarsi eppure sembra una cosa folle e lo facciamo ecco lo stesso dovrebbe fare un sistema di AI nel senso di essere in grado di recuperare rapidamente non di essere perfetto di non avere mai problema di recuperare rapidamente il problema di capire usare le sue skills diciamo pregresse le sue informazioni acquisite per risolvere rapidamente un nuovo problema questa è robustezza non deve essere un sistema perfetto e questo incide sull'autonomia allo stesso modo perché non c'è bisogno che io cioè è assurdo pensare a un robot per esempio che tutti avremmo interagito con un robot nella nostra vita in un qualche modo è assurdo pensare ad un sistema che è lì irrecettivo rispetto a dei feedback immediati che gli diamo questo è anche annoying molto annoiosetto avere a che fare con un sistema del genere che lo rende subito inusabile poi sul discorso bias ecco qui volevo introdurre un concetto secondo me anche molto interessante cioè non so se avete già avuto modo di essere esposti all'idea che aveva proposto inizialmente Andrei Carpati direttore di Applied AI a Tesla e prima un attore fondamentale nel mondo deep learning e computer vision di software 2.0 cioè 2.0 cioè l'idea che i sistemi di apprendimento e i sistemi di modelli predittivi stiano in un qualche modo sostituendo il software noi non scriviamo più software piano piano sostituiamo il software da modelli predittivi quindi le nostre pipeline cominciano a sparire sempre di più il codice abbiamo dei modelli sostanzialmente predittivi e quindi l'idea si è trasformata non scriviamo più il codice ma sostanzialmente a scrivere il codice tra virgolette comunque sì e un ottimizzatore basato su esempi quindi non scriviamo più alla macchina non spieghiamo ah se succede questo fai quest'altro ma lasciamo semplicemente il modello decidere gli abbiamo impasto i dati e lui decide automaticamente quindi è come se all'interno i pesi e come l'informazione viene manipolata siano il programma stesso e quindi in questa idea lui diceva ah sì nel futuro non scriveremo più codice sostanzialmente sarà tutto modelli predittivi e quindi software 2.0 una seconda versione del software ecco in quest'ottica cos'è allora il continual learning beh il continual learning è praticamente l'agile di questo mondo del software 2.0 quindi diciamo il parallelismo qual è l'agile è quel paradigma che ci consente di lavorare in maniera iterativa sul software non pensiamo più di avere il software perfetto sin dal primo ciclo iterativo diciamo no è un qualcosa che aggiorneremo nel tempo integriamo feature facciamo patches facciamo tutto con calma integrandolo quando ne avremo bisogno e verificando le falle del sistema e risolvendo quindi in un modello primamente iterativo scusate nell'AI nei sistemi quindi qual è questa idea iterativa di aggiornare il sistema sulle proprie errori o comunque avere accesso ai dati quindi ai requirements sarebbe in agile in maniera iterativa beh questo è il continual learning e quindi diciamo l'importanza del continual learning per risolvere bias e quindi anche fairness privacy and security esattamente quello di fornire un sistema di patches a software 2.0 quindi questo questo mi mi piace particolarmente risuona particolarmente in me perché effettivamente è l'unica tecnica che consente di fare patch a modelli neurali sostanzialmente in maniera efficiente senza ripartire da zero sarebbe fole un sistema di software riparti da zero ogni volta abbia un nuovo requirement è la stessa cosa per un modello predittivo e poi diciamo ha in maniera più sfumata degli impatti su human societal environmental well being explainability e trasparency e accountability in questa forma molto blanda cioè no non blanda solo sull'impatto sociale diciamo di benessere del pianeta non sicuramente banale perché è un significativo impatto in termini di sostenibilità proprio efficienza e scalabilità ridurre in un qualche modo l'energia spesa per adestrare questi modelli e le conseguenti emissioni e quant'altro quindi effettivamente quello che io scrivo qui l'unico sistema che è sustainable by design cioè utilizza un 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 ammontare di risorse come dicevamo all'inizio del talk costante e basso quindi non è che incrementa rispetto al numero di dati che processiamo perché se guardiamo le statistiche del registramento di sistemi di sistemi di AI la computazione richiesta di sistemi è sempre la doppia ogni anno cioè nel senso se continuiamo così non so quanto riusciremo ad andare avanti senza magari distruggere il pianeta soltanto per la destra dei modelli come insomma approcci alla open AI che io non condivido come avete forse intuito durante il talk e infine sull'explainability io credo che abbia un impatto anche su questo perché sostanzialmente il content learning è molto neuroscience ground cioè l'idea di partire da altri indizi neuroscientifici da avvicinarsi al modello di apprendimento umano non è un qualcosa di sovraumano che si distacca totalmente dal modo in cui apprendiamo come umani e quindi questo strumento questa tecnologia potrebbe avvicinarsi al modo di pensare all'intelligenza come umana quindi human centered AI quindi non è che forniamo delle tecniche per essere per rendere il deep learning più explainable ma sicuramente andiamo nel passo di renderlo più human centered e credo che nel momento in cui facciamo questo un sistema sarà molto più intellegibile molto più vicino a magari i nostri valori e il modo in cui intendiamo questi sistemi quindi niente prima di concludere il mio talk direi per dare spazio un po' anche a voi su super domande e interessanti diciamo dibattiti che potremmo avere credo che valga la pena anche guardare quelle che possono essere le applicazioni per esempio del continual learning e magari per stimolare degli spunti a voi che siete una comunità più di più di gente pratica gente che lavora nel mondo del data science per esempio è quasi immediato pensare all'applicabilità di questi sistemi nel mondo embedded systems e robotics perché effettivamente riusciamo a rimuovere la necessità di una connessione internet quindi un sistema che può adattarsi on the fly in base alle specifiche richieste al momento può lavorare on the edge perché non ha più bisogno di fare questi training da zero in maniera diciamo brute force quasi direi lato server HPC ma può farlo direttamente on the edge perché deve fare un piccolissimo update ma è diluito nel tempo questo è il trucco diluire nel tempo sostanzialmente l'apprendimento e può garantire fast adaptation efficiency e anche privacy questo è un altro elemento interessante cioè non siamo più non abbiamo più la necessità di spostare i nostri dati nel cloud possiamo semplicemente processarli buttarli via on the edge e un'altra cosa forse che è molto interessante sin da oggi perché sembra un po' non pensabile che un'azienda oggi vista la scarsa direi alfabetizzazione del mondo AI della popolazione rinunci a collezionare i loro dati privati un qualcosa su cui il continual learning invece può agire sin da oggi e lavorare sul discorso in sintonia con i discorsi AutoML e Continuous Integration Systems quindi quei sistemi che tutte le grandi aziende hanno e prima o poi anche quelle piccole avranno DML e OPS per intenderci dove insomma riuscire a fare dei cicli iterativi ben curati ed efficienti e scalabili diventa rilevante perché ti toglie io ho fatto uno use case recentemente con un'azienda dove fare questo tipo di attività cioè nel momento in cui un'azienda vuole fare un retraining frequente dei suoi modelli predittivi usare continual learning significa ridurre tipo del 30% le proprie spese insomma costo computazionale insomma la bolletta EWS per intenderci utilizzando delle piccole strategie che si vanno un po' a intaccare magari sull'accuratezza dei modelli non sono quelli perfetti ogni volta ma sacrificando un po' di accuratezza si può avere un notevole risparmio in termini computazionali e poi ci sta quello delle patches il discorso delle patches molto interessante da sviluppare anche la tua ricerca c'è l'idea di dire ok pensare ad un modo per fare fairness security e diciamo patches per qualsiasi sistema neurale laddove sia si è richiesto questo io ho concluso il mio talk spero sia stato interessante per voi e sono quindi disposto a rispondere adesso alle vostre domande curiosità ed interessi adesso quindi vabbè ovviamente fate riferimento sempre alla mia mail per domande tutti i rapprofondimenti vincenzo.lomonaco chiocciolaunip.it e adesso sono qui a disposizione altre domande sulla chat vediamo se riesco a togliere anche la condivisione eccomi qua oddio vediamo la chat ah giusto ok per la chat e gli organizzatori qui Marco ci suggerisce di utilizzare la tab questions che c'è qui su Ironmeet quindi se volete scrivete pure in chat o anche se avete solo delle riflessioni sarebbe utile sentire i vostri feedback è quello che avete in mente ah ok vedo qui un grazie grazie sempre piacevole di Tony the coder quindi grazie grazie a voi bevo un sorso d'acqua aspettiamo se riesco domanda più lato tecnico se vuoi dove collochi una metodologia come un ml presentata da Jeff Clown questo è molto interessante perché riguarda se vogliamo l'interazione che sussiste tra due campi che si stanno sviluppando in realtà separatamente che sono il meta learning e il continual learning ovviamente abbiamo tante proposte soluzioni che praticamente sono all'intersezione se vogliamo delle due discipline però secondo me vale la pena distinguerle perché l'una il meta learning si preoccupa di in un qualche modo trovare delle tecniche per apprendere più velocemente il meta learning sarebbe apprendere ad apprendere ecco questo è bello pensarla così apprendere di apprendere infatti c'è un libro diciamo famoso in Sibit se vogliamo di tutti gli approcci di meta learning che è proprio learning to learn e secondo me quello è il focus cioè l'idea di dire ho un sistema che è in grado di migliorare il suo modo di apprendere ma questo è soltanto un aspetto per esempio del continual learning il continual learning è invece focalizzato sull'apprendere da uno stream di dati non IAD quindi dove le distribuzioni degli stessi cambiano nel tempo quindi questi sono due focus separati poi ovviamente ci sono tante tecniche per esempio di meta learning che rendono l'apprendimento diciamo su stream sequenziali e non non IAD più agevole quindi trovando un modo per esempio per addomesticare il problema del forgetting in maniera strutturale strutturale tramite il problema learning to learn quindi diciamo sono obiettivi diversi tecniche come quelle proposte da Jeff Klune sono rilevanti e peraltro l'abbiamo invitato recentemente al workshop che ho organizzato a CDPR 2021 che sarà in estate siete tutti invitati ovviamente a partecipare perché sarà gratis essenzialmente non prevede tickets e lui sarà uno degli speaker perché appunto abbiamo interesse nel capire quelle che sono le sinergie che possono essere messe in atto tra questi due campi e Jeff Klune è un attore fondamentale del mondo mental learning e ha l'interesse anche con il continual learning quindi questo è davvero davvero interessante quindi grazie per la domanda vi invito magari in me nella chat il link del workshop che stiamo organizzando eccolo qua l'ho beccato dove lo metto nella chat sì nella chat ecco vi ho messo il link di questo workshop quindi se voi usate questo come riferimento sarà molto sarà questo diciamo il sito dove metteremo la live stream di youtube con tutti gli interveni tutta la giornata il workshop sarà totalmente accessibile a tutti gratuitamente quindi anche una bella innovazione è stata fatta da CDPR quindi grazie agli altri grande grande toni che dice ho messo la star alla libreria in github molto apprezzato perché veramente ci aiuta a renderla più visibile sostanzialmente quindi vi metto anche il link qui per tutti gli altri se volete fare lo stesso grazie grazie Paolo eccetera allora provo a rispondere qualche altra qualche altra domanda allora vediamo qui non le ordina vediamo sort invece che by time da app votes perfetto questo è carino di questo tool allora potresti fare un esempio pratico di un progetto applicazione in cui l'approccio continua sia stato fondamentale questo è interessante perché diciamo adesso esempio pratico si intende sì non una applicazione business perché a livello business ci sono pochissimi use case in cui è stato già dimostrato come fondamentale cioè sostanzialmente non c'è una validazione lato business che ad oggi possiamo utilizzare per dire che il continual learning potrà essere rilevante anche se io credo lo sarà se invece parliamo solo di esempi pratici cioè l'idea di dire ok qualcosa che deve funzionare praticamente beh per esempio l'applicazione che abbiamo fatto adesso vi do un link è un esempio di applicazione pratica vediamo se riesco a beccarlo rapidamente è un esempio di applicazione pratica eccolo qua finalmente l'ho beccato ok vi metto anche questo in chat dove praticamente abbiamo fatto abbiamo fatto questa applicazione di object recognition su un android device ecco perché cioè quello che succede è questo se uno lo volesse fare senza continual learning questa applicazione sarebbe ovviamente non scalabile nel senso che dovresti immagazzinare tutti i dati ogni volta che incontri una nuova sessione di un oggetto poi vedete il video insomma dove hai spiegato tutto bene dovresti riadestra tutto il sistema da zero ma questo è molto neroso soprattutto se lo vuoi fare lato device quindi questo può essere un esempio pratico in cui vi faccio vedere che è facile fare un update rapido on the fly sul device senza rieffettuare un attestamento da zero e alla fine può essere applicato per tutti gli scenari in cui hai dei dati che arrivano molto velocemente e sono nuovi non potevi sostanzialmente avere dall'inizio di quando avevi progettato il sistema ecco quindi ci sono dei dati che purtroppo non possono essere rappresentati dalla distribuzione del tuo famoso training set e quindi devi per forza aggiornare il tuo modello su questi quindi tutti quegli scenari lì sono scenari secondo me interessanti allora vediamo se riesco a beccare qualche altra non so se l'ho solicita a rispondere alla chat in caso scriveteci scrivimi Roberto ecco che questo qua è Roberto di Tetra Pak ok vediamo se trovo qualcos'altro sempre vado magari in ordine di appvotes quindi votate insomma le vostre domande ah poi posso fare risolta ah no non posso decidere se risolvere la la domanda ok ci puoi dare qualche link di esempio di CL per la robotica ah secondo me si c'è molto poco sulla robotica devo dire però noi abbiamo fatto un articolo che è continue learning for robotics in cui cercavamo di dare qualche qualche idea però c'è poco questo qualche paper però diciamo soprattutto se si cerca esempi pratici in robotica è davvero davvero tasticella trovarli al momento però le applicazioni secondo me sono interessanti e saranno notevoli nei prossimi anni allora posto intanto nella chat questo paper su che abbiamo lavorato in cui condividiamo qualche idea però ecco sì sulla robotica a me piace molto pensare a quell'idea di diciamo credo che nell'immediato vedremo diciamo il diffondersi di questi bracci robotici quindi mi piace molto quella idea lì di dire ok ho diciamo un braccio robotico magari che si risolverà determinati task vorrei aggiungere nuovi task diciamo on the fly ecco il più rapidamente possibile quello scenario lì mi piace moltissimo e credo sarà molto rilevante nel futuro prossimo però ecco altri esempi di robotics beh diciamo adesso stiamo portando quella app quella core app di cui vi ho mandato un link la stiamo portando anche su RoboNow quindi quello piccolino bassettino carino però appunto è soltanto una simulazione di interazione lì è utile per esempio perché non so riconosci nuove facce on the fly poi per esempio aggiungi dell'identità tutto ovviamente on the edge senza senza un server remoto quindi è interessante ci sono tanti scenari in cui di robotica in cui potrebbe essere applicato però ripeto è un cab ancora tutto a esplorare c'è una prateria sostanzialmente di fronte e vi invito tutti insomma ad approfondire con interesse diciamo questa disciplina vediamo se riesco a rispondere a qualche domanda ogni volta dovrei mettere ordina per app va bene ok Fabrizio Pettinari ci dice non conoscevo l'argomento del continue learning ma è applicabile solo per classificazione o object detection o è più generico ah questa è una domanda super interessante perché è vero che il continue learning è stato applicato è studiato molto nell'ambito della visione e nell'ambito del object recognition ma è un qualcosa che può essere generalmente applicato quindi in maniera ortogonale rispetto ad altri paradigmi di supervisione tipo unsupervised self supervised reinforcement ma anche rispetto ai task quindi regressione detection che può essere inteso come regressione e classificazione e quant'altro quindi assolutamente sì è rilevante per secondo me tutto il mondo machine learning infatti io spesso tendo a chiarire questo aspetto cioè il continue learning ha un livello di profondità tale che cioè quasi diciamo va a smontare le basi del machine learning perché il machine learning per come lo conosciamo statistical machine learning la sua teoria e definizione si basa sull'idea di avere i dati A e D distribuiti se vuoi vedere tutte le definizioni più classiche di machine learning tutti gli studi teorici ma anche le validazioni empiriche sono tutte basate su questa assunzione importante semplice cioè che semplifica un sacco le cose quindi ma utile per risolvere problemi pratici però nel momento in cui togliamo questa assunzione crolla tutto praticamente e quindi il continue learning va se vogliamo proprio a lavorare alle basi di tutto questo quindi secondo me è rilevante anche per questo ed è fondamentale proprio anche da un punto di vista scientifico come studio non è soltanto una nice feature che vogliamo integrare nel nostro sistema ah si sarebbe bello per efficienza no il problema è la radice proprio riuscire a prendere in maniera continua il problema è rilevante quindi senz'altro è un problema fondamentale non solo utilizzarmi nel mondo classificazione o per object detection questo sì quindi ecco anche per rispondere alla domanda di Ernesto Viganò che dice applicabile anche per problemi di anomaly detection su macchinari e impianti assolutamente sì secondo me è un use case molto interessante perché è quello dove veramente hai diciamo necessità di apprendere on the fly quindi per predictive maintenance anomaly detection cose del genere è veramente può essere veramente uno strumento interessante bisognerebbe approfondire cosa cosa si può fare oggi perché nel mondo c'è la ricerca per dire ma ci saranno forse un paio di paper o forse meno sul continual learning e anomaly detection quindi per dire è tutto un mondo da esplorare per adesso si è fatto molto soprattutto con tecniche deep nel mondo nel mondo visione quindi dati all'elevata dimensionalità ma è una questione aperta su come fare per esempio continual learning con dati dalla più scarsa dimensionalità come spesso accade per l'anomaly detection poi ovviamente poi avete sensori infiniti però il genere sono dati diciamo abbastanza low dimensional rispetto ad un'immagine con migliaia di dimensioni qui c'è poi c'è un'altra domanda sostanzialmente di Paolo per Liti ah ok no non la vedo più quella forse è stata già risposta quindi ah ok vengono spostate qui in answer fantastico quindi direi che ci siamo non ci sono più ulteriori domande vediamo la chat cosa sta succedendo grazie grazie a voi per il supporto per la simpatica interazione se non ci sono ulteriori domande direi che non ci sono ulteriori domande quindi vi ringrazio ancora per per tutto il vostro il vostro supporto il vostro tempo e mi fa sempre piacere insomma interagire nuovamente con voi se lo vorrete in altri eventi che diciamo in qualche modo YAML patrocina se no vi invito anche su 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 sui reading group che facciamo settimanalmente purtroppo in inglese di Continua AI e tutti gli eventi che facciamo quindi semplicemente iscrivetevi alla main list di Continua AI e sarete aggiornati su tutti gli eventi relativi anche a quella organizzazione quindi grazie ancora grazie ci vedo qui Mattia grazie ancora Mattia e gli altri organizzatori grazie a tutti